buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi sempre per i tutorial dedicati a buy nas andiamo a vedere come impostare ma come funziona il trading botte automatico a griglia divina exchange ovviamente dopo la sigla ma di tutto dovete avere un conto aperto su buy nas se non avete ancora aperto un account potete trovare un link in descrizione con refera link dove avrete degli sconti sulle fifi che terrete l'account abilitato in alternativa potete registrarvi sul sito buy nas.com senza problemi non importa se utilizzate il mio refera link o meno allora per attivare il bot come vedete in alto non c'è nessun botto che vi permette una scorciatoia dovrete andare su derivati future e come vedete qua in alto avete grid trading quindi il trading botte a griglia per avviarlo basta far altro che cliccare su grid trading e vi si aprirà questa schermata all'interno di questa schermata come vedete qua a sinistra potete andare a selezionare gli strumenti ovvero i diversi tipi di future sulle diverse cripto valute una volta che avete selezionato quello che più vi aggrada potete andare a operare una cosa che ci tengo a sottolineare mi raccomando sembra tutto rose e fiori tutto facile si impostano i prezzi più bassi i prezzi più alti quindi dei supporto e una resistenza e il prezzo in questo caso di bitcoin e se uscilla all'interno delle due fasce che abbiamo inserito ci può generare dei profitti attenzione però perché funziona solamente se si tratta di una lateralizzazione oppure di una congestione del mercato ma non in presenza di un forte trend perché in presenza di un forte trend il botte va a saltare perché non sta più all'interno delle linee che andremo a mettere e quindi ci potrà veramente fare male far perdere un botto di soldi soprattutto se si andrà a usare la leva lasciamo in questo caso di default btc usdt e andiamo a vedere cosa impostare spostiamoci nella barra di destra e come vediamo abbiamo la possibilità di ad operare anche la leva fino a un massimo di 123 per mi raccomando la potete ovviamente modificare questa leva il consiglio che vi posso dare come ho sempre detto nei miei video la leva ci può far guadagnare tanto ma ci può anche fare veramente una strage per quanto riguarda il nostro portafoglio quindi sarebbe meglio evitare di rischiarciarla con questa sorta di grazie vinci a leva a meno che non abbiate veramente un capitale elevato per coprire eventualmente la leva io la sconsiglio poi vedete voi come utilizzare i vostri fondi adesso facendo un esempio possiamo anche impostare una leva ad esempio 25 per dopo che abbiamo impostato la leva lasciamo la scala aritmetica e dobbiamo andare a impostare un prezzo inferiore un prezzo superiore che cosa vuol dire che noi possiamo andare a inserire ad esempio come prezzo inferiore questa soglia di 28.627 e ad esempio un prezzo superiore la soglia di 49.882 che cosa vuol dire una volta che abbiamo impostato queste soglie e andiamo a selezionare ad esempio 6 griglie vuol dire che tra questa soglia e la soglia che abbiamo deciso di mettere precedentemente il bot è come se tracciasse delle linee delle griglie per sei volte quando il prezzo va a toccare si muove all'interno delle linee che delle griglie che ha disegnato noi andremo a ottenere un profitto ritornando il discorso che vi ho fatto prima se c'è un movimento lateralizzante comunque di congestione all'interno del mercato in questo caso di bitcoin e le griglie possono essere attivate dai prezzi quindi noi andremo in profitto diversamente se noi andiamo a impostare come soglia minima sempre ad esempio 28.772 e la soglia massima di 41.352 se il prezzo all'improvviso schizza verso l'alto schizza verso il basso ovviamente noi andremo a farci tra virgolette male finanziariamente quindi facciamo questo esempio prezzo minimo 28.688 prezzo massimo della nostra griglia 43.664 43.664 qua sotto noi possiamo impostare quante griglie vogliamo che il bot vada a inserire virtualmente all'interno di questa fascia di prezzo che abbiamo messo possiamo fare da un minimo 2 ad esempio mettiamo 6 e vediamo che il profitto tra la griglia inclusa le commissioni va del 5,67 per cento qua sotto nella parte degli usdt noi andiamo a mettere il capitale noi dobbiamo impostare il prezzo che vogliamo investire attenzione di ogni griglia che vedete che cambia anche in base alla leva che noi abbiamo deciso di impostare quando stiamo investendo il nostro totale 10 dollari per ogni griglia e con questa leva ci va a indicare che il nostro investimento totale sarà di 250 dollari come vedete io qua come saldo disponibile o 15 usdt mettendo 15 dollari 15 usdt cambia che il mio investimento totale sarà di 375 dollari anche se io al momento 15,16 perché andatevi a vedere il significato del margin trading con leva che cosa significa operare con leva anche per quello che vi dico fate veramente attenzione andando qua sotto noi possiamo andare a inserire dei dati in modalità avanzata come vedete scritto è facoltativo ma è importante comunque ci consentono ad esempio il neschio della griglia di far partire il botte quando il prezzo di bitcoin arriva a un prezzo che abbiamo stabilito oppure di fermare la fermare il botte quando c'è un prezzo minimo quindi noi possiamo annullare tutti gli ordini al raggiungimento di un prezzo di stop chiudere tutte le posizioni al raggiungimento di un prezzo di stop questo serve per salva al guardare i nostri 20 me investimento in caso di cambio della rotta sia in positivo che negativo del trend di bitcoin per il quale vada a infrangere le nostre linee dopodiché se abbiamo tutto settato nel modo corretto non ci resta che far altro che cliccare su crea e avviare la nostra strategia ovviamente i dati parametri commesso non ho totalmente casuali non c'è stata un'analisi dietro alle movimentazioni del prezzo di bitcoin in questo momento mi raccomando questo è stato solo un piccolo tutorial per alcune funzioni ma dietro a ogni singola operazione che fa il bot ogni singolo settaggio va c'è deve essere dello studio dello studio che sia anche analisi tecnica per capire mediamente come si muoverà il prezzo di bitcoin e in quale fascia di prezzo così da andare a impostare al meglio la nostra strategia il bot alla fine non fa altro che replicare la strategia nostra la strategia di un trader che ha fatto le dovute analisi prima di andare a impostare questo botta griglia quindi usatelo sfruttatelo al meglio ma veramente usate la testa e soprattutto state molto attenti nell'utilizzare o meno una leva siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento lasciatemi un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro ed unitevi anche la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi noi ci vediamo domani alla prossima ciao 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 ciao